La 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 Siamo di buon umore oggi, eh mamma? Non so com'è, ma quando mi metto in piega i capelli con forming di Pantene mi torna il buon umore, sarà che mi riesce sempre bene Cosa te ne pare? Però questo forming c'è anche il tipo per te che usi spazzola e fond Forming di Pantene, tipo normale, riflessante e fond Capelli in piega e buon umore Forming di Pantene